Quello che sta accadendo a quarto è qualcosa di molto grave, di molto grave sul piano ovviamente dell'esigenza di verità, trasparenza che tutti noi vogliamo conoscere e vogliamo sapere. Grave perché la prima volta che nella vasta area metropolitana di Napoli un movimento che si caratterizza per essere l'innovazione della politica, viene dopo pochissimo essere messo sotto la lente di ingrandimento per fatti di camorra, espulsioni, pressioni, estorsioni, al di là di come saranno le indagini e quello che sta avvenendo fuori, non è sicuramente una bella pagina. Io la penso in questo modo. Se il sindaco Rosa Capuzzo è convinta di essere un punto di riferimento per la lotta alla camorra e che non ha nulla da nascondere, secondo me non si deve rimettere. Secondo me deve spiegare a chi l'ha votata, ai suoi concittadini, in questo caso all'area metropolitana di Napoli, al paese, visto che è diventata una questione nazionale, come stanno le cose. Fare chiarezza. Io invece vedo che purtroppo in questa vicenda non si è fatta chiarezza ma è aumentata la confusione, perché Grillo dice una cosa, quello ne dice un'altra, tutto il movimento è con me e non mi devo dimettere, poi Grillo la sconfessa e dice no ti devi dimettere, poi anche tutte queste espulsioni in un movimento che è appena nato, insomma vedo qualcosa che non mi convince. poi la riflessione che farei è questa, io non credo che la cifra della lotta alla camorra, la questione morale, la legalità sostanziale si misura dal fatto che uno si debba dimettere se riceve l'avviso di garanzia, si debba dimettere se c'è una campagna mediatica, debba essere espulso se non è d'accordo con quella, ma dove arriveremo così? Il tema è proprio questo, qua bisogna capire bene le storie, le storie personali, le storie dei movimenti e forse sta avvenendo fuori che nessuno ha il marchio dell'esclusività per reggersi a paradino della morale pubblica e della questione morale, men che mai chi evidentemente non ha una storia così solida alle spalle e non mi riferisco al sindaco di quarto, mi riferisco in generale a chi pontifica quotidianamente, chi dà patenti di moralità e chi emette giudizi frettolosi. Io ho molto rispetto per il Movimento 5 Stelle, lo considero sinceramente un movimento che fa bene al Paese, mi sento vicino a chi ha creduto nell'esperienza di quarto, mi sento vicino ai tanti elettori che nel votare Rosa Capuzzo hanno pensato di dare un calcio alla camorra, alla criminalità organizzata, a una delle zone in cui si è registrata l'influenza, uno dei clan camorristici tra i più pericolosi, il clan Nuvoletta Polverino, che ricordiamoci di Nuvoletta partiva una cosa nostra, oggi quello che accade vedo che non c'è chiarezza, c'è confusione, ci sono cose che emergono a distanza di appena 6-7 mesi che ci preoccupano molto, però ci incoraggiano ad andare avanti e a sostenere le persone, soprattutto i più giovani che decidono di impegnarsi in politica e fare gli amministratori. Quindi per concludere, se Rosa Capuzzo non ha nulla da nascondere e anzi è convinta che la sua elezione significava fare passi in avanti, la lotta alla camorra, io non riesco a capire perché si debba dimettere, però ce lo deve spiegare, ce lo deve spiegare bene, deve chiarire tutto e deve fare un bel percorso di lotta e se il percorso è di lotta, è di schiena dritta e di mettersi contro la malapolitica e contro la camorra, per quanto mi riguarda ci avrà sempre al suo fianco.